Ciao e benvenuti in Hela Academy. In questo video vogliamo mostrarvi la struttura, il funzionamento e il controllo del filtro antiparticolato diesel. I filtri antiparticolato sono utilizzati nell'impianto di scarico per ridurre le emissioni di fuligine. Il filtro antiparticolato diesel immagazzina le particelle solide che vengono prodotte durante il processo di combustione. Queste nanoparticelle sono molto dannose per l'uomo e per l'ambiente. Ora daremo un'occhiata a un filtro di questo tipo. Qui il nostro filtro antiparticolato diesel, il classico alloggiamento in acciaio inossidabile. Più avanti abbiamo il tubo di collegamento per il sensore della temperatura dei gas di scarico. Questi sono i due tubi di risalita che portano al sensore di pressione differenziale. Ma come si presenta un filtro di questo tipo dall'interno? Per una migliore comprensione, vi mostriamo una sezione di un filtro antiparticolato diesel e, come possiamo vedere bene qui, un alloggiamento comprende i seguenti componenti. Il nostro catalizzatore di ossidazione. Sul lato opposto abbiamo il nostro filtro antiparticolato diesel, un filtro in ceramica. Qui troviamo il tappettino isolante. Questo serve a fissare i corpi ceramici e quindi a compensare l'espansione termica. Tra i due corpi in ceramica si trova anche l'inserto filettato. Qui è installato il sensore della temperatura dei gas di scarico. In questo caso si tratta di un singolo supporto in ceramica con struttura a nido d'ape. I numerosi piccoli canali con pareti porose sono chiusi in modo alternato e suddivisi in canali di ingresso e di uscita. I gas di scarico attraversano le pareti del filtro dall'ingresso verso l'uscita e le particelle di fuligine si depositano sulle pareti del filtro. Il numero crescente di particelle di fuligine accumulate fa aumentare la pressione dinamica nel filtro antiparticolato. Il grado di carico o di resistenza al flusso aumenta. Un sensore di pressione differenziale, ad esempio questo, è collegato al filtro antiparticolato diesel tramite tubi flessibili, rileva la pressione dei gas di scarico a monte a valle del filtro antiparticolato diesel e trasmette a sua volta queste informazioni alla centralina del motore. Ora diamo un'occhiata a un veicolo come esempio. Su questo veicolo il filtro antiparticolato diesel è installato dietro il motore. Questo sistema è dotato di due sensori di pressione differenziale. Un sensore misura la pressione a monte del filtro antiparticolato rispetto alla pressione atmosferica. L'altro sensore misura la pressione a valle del filtro antiparticolato. I dati dei sensori di pressione differenziale vengono confrontati dalla centralina del motore. In questo modo vengono calcolate le condizioni di carico e la massa di cenere del filtro antiparticolato. Osserviamo come funziona sul dispositivo diagnostico. Sul dispositivo diagnostico abbiamo selezionato i parametri corrispondenti per visualizzare i valori attualmente rilevati dalla centralina. Per verificare la pressione dinamica effettuiamo ora una misurazione a veicolo fermo. A tal fine è necessario aumentare brevemente il regime del motore con diversi colpi di gas osservando la pressione differenziale. La pressione differenziale non dovrebbe superare i 50 millibar. Il risultato mostra un valore di circa 40 a 41 millibar. Ciò significa che il valore rientra nella tolleranza e quindi è ok. In alternativa la prova può essere eseguita anche con il veicolo in movimento. In questo caso il valore non dovrebbe superare i 300 millibar. Se il limite di carico ha superato un determinato valore la centralina avvia una rigenerazione attiva. Durante la rigenerazione le particelle di fuligine vengono bruciate ma non tutte le particelle possono essere bruciate e si depositano come cenere. Se si raggiunge la massa massima di ceneri il filtro deve essere sostituito. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima su HELLA Academy. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima.